Ciao Drake, allora innanzitutto auguri perché il 19 dicembre compi gli anni, auguri da parte di tutta Capodorlando, tu sei arrivato in Italia nel 2006-2007 a Castelletto dove hai trovato Meo, Sacchetti e Gianmaria Vacirca e poi l'anno successivo insomma siete tutti e tre arrivati a Capodorlando in Serie A. Sì, ovviamente era l'inizio della mia carriera, due anni molto importanti e i giorni messi in Capodorlando erano magici veramente, con una squadra molto forte, gente molto forte e sì, ho tanti bel ricordi di questo tempo. Sì, infatti comunque la tua esperienza è stata in termini di tempo abbastanza breve, però sei rimasto nel cuore dei tifosi di Capodorlando 20 partite, oltre 360 punti, quindi un'ottima media e con un AIG in quella partita vinta a Milano in cui facesti 34 punti, che ricordo conservi di quella partita? Ah, di quella partita era una bella vittoria per noi, abbiamo giocato la prima parte del campionato senza Pozeko, forse i primi quattro partiti senza lui e abbiamo cresciuto tanto in questi partiti, poi quando lui è rientrato siamo anche forti in più, ma sì, era una partita molto importante per me e per la squadra e come hai detto non ho giocato tanto, tanti partiti per l'Olandino, solo 20, ma anche per me questi 20 partiti e questi, non lo so, 5-6 mesi era un valore più di questo tempo, come ho detto ho tanti bel ricordi di mio tempo in Capodorlando. Assolutamente un sentimento condiviso anche da Ghi Tifa a Capodorlando, stasera che partita sarà? Ho visto la gara di Orlandina contro i Sassari, la squadra è molto atletica e adesso con Henry come playmaker è un'altra squadra, lui ha confidenza e con Freeman e Burgess come marcatori è difficile per difendere e anche due lunghi sono molto atletico e è una squadra che per noi dobbiamo giocare con molta intensità perché non abbiamo lo stesso atletismo di loro, dobbiamo giocare un po' più fisico, un po' più con intensità e con intelligenza. Bene, allora in bocca al lupo per stasera e speriamo di vederti presto a Capodorlando anche magari non mentre, insomma, nelle vesti da giocatore. No, è sempre, i miei ricordi di Capodorlando sono bellissimi e anche l'anno dopo quando sono tornato solo per precampionato, era un mese e mezzo incredibile, era solo precampionato ma abbiamo una squadra forte anche quell'anno e mi è dispiaciuto che non ho giocato con quella squadra.